Una frase detta da Antonelle Lee a Tentation Island e ripresa dalla cantante Emma Marrone è destinata a diventare il primo tormentone a Tentation Island 2020. Di quale frase si tratta? Più che una frase è una domanda fatta dall'Elia dopo aver visto un video di Pietro. Le parole chi è Sofia sono state pronunciate dall'Elia e la Marrone ha deciso di condividere un video creato su TikTok. Nel video la cantante fa una parodia della gaffe detta da Antonelle Lee a Tentation Island. Il video è stato condiviso dalla cantante su Instagram ed è diventato subito virale. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.